hai fatto 15 e 9 in fila e veramente guardate ragazzi la mia impressione è quella facciamo una cosa che non c'entra niente non so se è una caratteristica del Frank ma più vanno dietro e più si allinea a quelle che sono le caratteristiche del varietale almeno dal punto di vista diciamo della letteratura consolidata come età io alla cerca forse questo è quello che direi senza sapere appunto zona provenienza e vitigno questo mi verrebbe in mente più di tutti gli altri Frank il 9 9 non so se è una caratteristica che si avvicina al varietale oppure se è un caso oppure se è una mia gestione un po' strampalata non lo so mi sembra che dipende di solito invecchiando il Frank prende una cosa ti sentivo prima quella quasi nobile caramellata invecchia molto bene però se gli fa bene comunque il vecchiere quella cosa erbacea quella lì io il classico peperone l'ho sentito il peperone l'ho sentito il magna tosta è un po' subbastro non so non so non non lo so è evidente posso dire una di ora ma più vicino c'è la fonte verte ovviamente c'è vicino che è sicuro